Il titolo Gnosis deriva da un vocabolo greco che significa conoscenza. E tale conoscenza avviene gradualmente, sia sulla base della propria esperienza di vita, sia del proprio percorso spirituale alla ricerca della verità. Un tentativo che ho voluto fare è proprio quello di rappresentare con la musica la conoscenza di ciò che c'è dall'altra parte, della natura, degli oggetti fenomenici del mondo. Musicalmente ho voluto portare avanti questo discorso sia con l'uso di parti più classicamente dark ambient, sia con l'uso di soni più concreti, distorti e se vogliamo terrestri. Grazie soprattutto all'uso di microfoni a contatto, ma anche con film recording registrati durante i vari viaggi che ho svolto nell'arco di questi ultimi anni. Musicalmente 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 Musicalmente